Aiaiaiaiaiaiai! Aaaaaaah povero Falco, la signora della corte magica ti ha fatto un terribile incantesimo! Ha fatto in modo che tu non riesca più a volare! Ecco a voi un cartone che vi stimolerà l'appetito! Tu pensavi che i campioni o i geni avessero una vita facile e invece hai capito che non è così. Ecco a voi un carton... Balsoletico! Ecco a voi un cartone che vi stimolerà l'appetito! Grazie a tutti.